A decorrere dal 1 gennaio 2019 la sede del distaccamento ASA del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotone non è stata inserita nel capitolato del nuovo appalto di pulizie e bandito dalla direzione regionale Vigili del Fuoco Calabria in quanto la normativa vigente è individuata dalla società di gestione aeroportuale SACAL, SPA, l'ente soggetto al servizio di pulizie e di manutenzione ordinaria e straordinaria della sede. Risulta però doveroso segnalare che appunto dal 1 gennaio non vengono regolarmente eseguite le pulizie presso la sede e che emergono urgenti interventi di manutenzione. Più volte sollecitata da queste organizzazioni sindacali e rispetto ai rischi igienico-sanitari a cui è soggetto il personale che vi opera, l'amministrazione comunicava di avere espletato tutti gli adempimenti per il regolare passaggio di consegne alla società di gestione aeroporti SACAL, SPA. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di questo comparto, di questo comando, non potendo più tollerare ulteriori ritardi, chiedono che siano immediatamente intrapresi i provvedimenti del caso a tutela della salute dei lavoratori, non escludendo eventuali azioni di protesta. Grazie a tutti.